Ed eccoci qui, siamo con Boss69, The Boss Buongiorno E con il tuo cane che si chiama Max Max, che è il boss vero e proprio Sì, sì, è lui Tu e voi vi occupate di customizzazione Noi siamo customizzatori, siamo a Fasano, in provincia di Brindisi, in Puglia Facciamo principalmente Old School Vintage Quindi la vecchia scuola del custom, il vecchio custom Qui siamo al Motodays di Roma, salone appunto del custom Possiamo vedere alcune tue creature Sì, abbiamo questa che si chiama Protesis Perché le marmitte possono simulare il tratto intestinale L'asta dello specchietto è una protesi di spalla Mentre la leva del cambio, che si vede dall'altra parte, è una protesi di femore Una vera protesi medicale, in acciaio medicale E una protesi di femore, quella lì dove c'è il pistone La vera e propria proprio, in titanio, in acciaio In acciaio al titanio medicale Incredibile Rubato da qualche parte però Vabbè Trovato tra i cazzonetti Mi è capitato un cartone con un po' di questi pezzi un giorno e li ho adottati Poi abbiamo il manubrio che è tutto in acciaio inox Quindi è un riciclaggio di pezzi, un riuso Ma la vecchia scuola dei customizzatori è quella Utilizzare ciò che si aveva in casa, in garage Pezzi trovati ai mercatini, costruirsi e modificare qualcosa E quella è la vecchia scuola della customizzazione Il cane fa la guardia, la sua bella moto? No, 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 lui è qui perché lui è il bello La moto è di un cliente Invece di comprare le hostess Di comprare, diciamo, di chi è appunto Pagare le hostess Appunto, attira più lui che le hostess Attira più lui Anzi, ci sono le hostess che vengono qui per lui Ad accarezzarlo Passiamo a quest'altra L'abbiamo chiamata Black & Bad Perché è nera e cattiva 11 colori, nero e cromato E uno sporser, una 883 Avantreno Ducati con steli Ducati Doppio disco su cerchio Harley E tante altre cose da vedere Marmitta 2 in 1 Aerografia stile old style Cioè quelle che si facevano una volta E' questa Complimenti, allora Ricapitolando Tu ti trovi a Canova A Fasano A Fasano, scusa A Fasano, in provincia di Brindisi In Puglia In Puglia Benissimo Avete anche il sito internet Vogliamo dire, ci troviamo www.boss69.it Benissimo Grazie Grazie di tutto Ciao, buona giornata Grazie a tutti 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 Grazie a tutti